Le bimbe di Giulia Delellis, le prime parole dopo l'eliminazione al Grande Fratello Vip Giulia Delellis non ha vinto il Grande Fratello Vip, la reazione delle sue fan. Contro ogni pronostico, Giulia Delellis non ha vinto il Grande Fratello Vip. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata battuta al televoto da Daniele Bossari e si è dovuta accontentare del quarto posto. Un risultato che ha sorpreso un po' tutti visto che la fidanzata di Andrea Damante era la grande favorita di questa edizione del reality show. Come l'hanno presa le bimbe di Giulia Delellis, le famose fan tanto nominate nel corso del programma e su social. Non molto bene, su Instagram hanno prima postato un duro sfogo sulle store se hanno poi deciso di cancellare almeno per il momento la pagina. Schifo e è tutto un gran schifo e GDL hai vinto tu hanno fatto sapere le ragazze che da due anni seguono con passione la Delellis. Subito dopo hanno chiuso la COUNT, lo riapriranno appena Giulia tornerà alla vita di tutti i giorni? Del resto il GF passa, certe passioni, e amicizie, no. Sì, che fai un mingonjatel!